un saluto a tutti a snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di limbo l'ultima volta siamo rimasti su questo vermone che ci si sta per attaccare in testa abbiamo distrutto le strutture a sinistra quindi ce lo facciamo ci facciamo possedere e andiamo vediamo dove vuole andare a parare con questa corsa vediamo un po dove vuole andare a parare che qui c'è una luce va a parare che c'è una luce perfetto allora torniamo verso di là che cosa potremmo dover mai fare già un sacco di strada ripercorrere in caso di morte già questo allora lì c'è una scatola andiamo un po' su e giù scendiamo ragazzi non so che cosa cosa ci aspetta jump qua bisognerà già tirarlo questo cosa già si capisce comunque andiamo avanti avanti cercando di non crepare quella cosa mi sembra una cosa che non va calpestata quindi e invece andava calpestata e morì così saltiamo su questo sgancia 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 salta wow brividi ok allora no what the fuck what the fuck dovevo saltare no di solito scendono sono loro ora salto per farglieli prendere a questi perfetto adesso c'è cosa c'è un tubo a cui aggrapparsi no ma what the fuck vai ok go si fugge si torna tutto indietro tutto indietro giumpiamo di qua ok ne sono felice facciamo diamo più potenza siamo qua ancora più potenza max power ancora una volta vai perfetto allora qua sicuro si dovrà tirare e farlo dondolare se no non ci riusciamo deve dondolare un po' di più mi sa ok tira 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 sali e corri 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 bam perfetto e si sale si sale si sale si risale quindi risaliamo di qua scatolone prendiamo la scatola qua e ovviamente la dobbiamo portare indietro sicuro per salire qua sopra quindi la trasciniamo qui aha ora riscendi giù ah no solo il tasto azione non bisogna saltarci quindi facciamo così ok vabbè siamo riusciti oh cazzo forse lo scatolone me lo devo prendere se no che cazzo di senso c'ha me lo prendo tostissimo altrimenti allora boh se ci serve ce lo torneremo a prendere allora che succede scende una corda oh ah serve si adesso per prendere allora quindi l'enigma è porta su devo tirare un po' più indietro no però più indietro allora 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 aaaaaa sto a capire bisogna no fermati fermati tu mandarlo giù ma tirarlo su far allungare la catena giusto come ho fatto a non pensarci cioè dai era banale c'è il manico lo devi tirare cioè non è che ok quindi lasciandolo così adesso quello lo blocca beh mi sembra logico e normale logico e normale ci ha fatto perdere un bel po' di tempo quindi saliamo qui sopra anzi 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 non saliamo qui sopra ci fermiamo qui perché l'episodio sennò dura veramente troppo vi invito quindi a lasciare un bel like un commento fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie io vi saluto ci vediamo come sempre nel prossimo video anzi 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 an